Sì, ma sei bello, ci hai detto tre volte? No, non scambio, non lo faccio in detail. Puoi fare con queste facette? Io tanto faccio Grazie Facciamo ancora Altri 27 Ma sai che stavo pensando? Magari può fare anche una roba tipo che a turno... Cioè questa cosa sarebbe molto strana, no? Tipo che uno di noi... Ragazzi! Altri 10 secondi Vabbè direi che è inutile essere l'igo Ligo Ok Tira fuori il c***o da lì No Prima finito se tiri fuori il c***o Cioè finito, nel senso che è proprio... Immagino la gente che passa, vedi noi che riprendiamo loro e loro che fissano la telecamera E' più in pace, dobbiamo ripartire Ragazzi non ci fate ridere! No questo è un momento delicato, abbiamo 30 secondi senza ragazzeggiare Ehm... Ma stavo pensando un po'... Direi che può bastare Ok, sì... Sì stiamo... Ok Ehm... Dateci idee, vi piace dove siamo posizionati A me non piace perché faccio qui Ma vuoi guardare? Esatto, provate... Magari a... Siamo un ciccioneri preso dal vaso Siamo presi dal vaso Ma siamo ciccioni Provate a guardare un po' Cioè mettere un po' tipo inclinati verso la telecamera Cioè con i visi che... Non lo so Ehm... Ma vabbè È brutta Ma... Ehm... Per esempio... Vera scendi un attimo Scendi un attimo Sì Vieni più vicino Tipo... Forse sì, effettivamente va bene che ci sia una persona su o una giù Tu non hai ripreso il mio scelta Ok è andato, è andato Ehm... Vera un po' più su perché stai... Un po' Ok Non è troppo così? No Stai riprendendo? Sì sì, stai riprendendo Coprando il trucco che si è... Non togliamo un pezzettino Dita? Anzi però mi sento di dita Vedi che io faccio E anche loro ti fanno Aspetta no Luca non devi partire Ma perché stai partita? Partita? Ho un attimo in silenzio altrimenti non capisco Ehm... Tu puoi premere? Ehm... Vabbè... Da... Da caprimo? Lo stai registrando? Sì sì Ci puoi assaggiare ecco sì E facciamo un'altra F***a good però Tata Ehi fermi fermi non fermate Faccio un momento di agape A caso F***a good però C'è... Non so di me Io riesco a essere dinamico coi pezzi in quattro quarti Figurati con questo Io ho fatto partire Metronomo datemi un via Via E partiamo Vai Questa è andata L'avete spostata la telecamera? No Ok allora siamo a fuoco quindi? Spero Sì sì è stato a fuoco Ok quando volete Vai 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 Luca è completamente rovinato il finale perché stavo seguendo C'era capito Va bene va bene Ma dai Ma tu le sei tagliata Sì ok Non mi muovi Leva di stagliicuattropina Tau kiss Tau kiss Io cattavo davvero Basta C'è Non è lijalo Grazie.